questo è l'imprendi promotore quando il consulente finanziario diventa imprenditore fissare degli obiettivi è una condizione sufficiente per raggiungerli scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario questo è l'imprendi promotore con enrico florentino ciao e grazie per aver deciso anche quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 3 dell'imprendi promotore podcast io sono enrico florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria però prima di cominciare questo episodio vorrei che ti prendessi un momento per poterti iscrivere a questo podcast e se ti va ovviamente lascia una recensione sarà un feedback molto importante per me per poter proseguire con questa bellissima esperienza dell'imprendi promotore podcast allora per dare risposta alla domanda che ti ho fatto e che mi sono fatto prima della sigla e oggi credo che sia opportuno parlare chiaramente di obiettivi obiettivi che costituiscono una sorta di croce e delizia per il consulente finanziario dico croce e delizia perché perché quando si parla di obiettivi è inevitabile che il consulente finanziario molto spesso alzi gli occhi al cielo e sospiri oppure socchiuda gli occhi ma con quella modalità che è tipica di chi invece ama la competizione lagone sportivo in questo caso è proprio perché è abituato a ragionare in termini di obiettivi e provo un attimo a dare una definizione del perché ho detto croce e delizia croce perché nel momento in cui si svolge un'attività imprenditoriale e tu sai quanto io creda nella formula che l'imprenditore ovvero il consulente finanziario è un imprenditore come ti dicevo croce perché nel momento in cui tu fai l'imprenditore è chiaro che vivi di obiettivi e devi averne costantemente sempre all'orizzonte e devi averne in forma chiara molto spesso nei corsi di motivazione o di gestione del tempo è l'obiettivo di avere le caratteristiche di essere specifico misurabile ambizioso raggiungibile tempificato questa queste cinque parole vengono condensate nell'acronimo smart no specifico misurabile ambizioso raggiungibile tempificato perché se l'obiettivo non è ben formato e non risponde a questi cinque elementi è difficilmente potrebbe definirsi un vero e proprio obiettivo ma gli obiettivi sono anche una croce per il consulente finanziario e per l'imprenditore in generale perché dietro a ciascuno di essi c'è fatica c'è poco da fare l'obiettivo presuppone molto spesso fatica perché la connotazione dell'essere ambizioso è molto spesso anche legato al raggiungimento attraverso delle scadenze o dei tempi ben definiti implica anche il fare fatica una fatica che si esplicita per esempio anche nella necessità di progredire nelle proprie competenze il mondo della consulenza finanziaria oggi in particolar modo in quest'epoca in questo momento storico è chiamato a rivedere in maniera profonda il modo con cui approccia il mercato e quindi molto spesso approcciare il mercato in maniera differente presuppone anche lo sviluppo e il progredire di nuove competenze inoltre conseguire degli obiettivi presuppone anche la volontà di rendersi misurabili rendersi misurabili vuol dire stabilire degli standard che possano essere misurati attraverso degli indicatori di performance l'indicatore di performance tipico che viene utilizzato per esempio in ogni azienda è il fatturato ma potrebbe anche essere il margine perché ti ricordo che tutte le aziende la loro battaglia non è solo per la quota di mercato non è solo per il fatturato ma soprattutto ad esempio è per l'aumento della marginalità perché la marginalità ti consentirà poi di ottenere degli utili utili che appunto potranno essere reinvestiti in azienda per migliorare i processi i prodotti l'approccio per investire in marketing e via dicendo ma presuppone anche ed è qui la croce ancora determinata dagli obiettivi la costante insoddisfazione difficilmente ho incontrato imprenditori di successo che non abbiano una costante insoddisfazione nel in ciò che fanno non tanto perché fanno delle cose per le quali non provano passione no anzi al contrario la costante insoddisfazione è legata proprio al fatto che una volta che l'obiettivo è stato raggiunto ecco subito all'orizzonte il palesarsi di altri obiettivi e questa è proprio connaturata nell'imprenditore che probabilmente nel cogliere le sfide ma soprattutto nel viaggio ecco nel viaggio verso gli obiettivi fonda la propria la propria azione quotidiana ma gli obiettivi sono anche delizia delizia perché raggiungere un obiettivo c'è poco da fare è inebriante ti dà quella sensazione di appagamento di grande soddisfazione e raggiungere gli obiettivi inoltre è un qualcosa che fornisce ulteriore motivazione e molto spesso si pensa che la motivazione o meglio che raggiungere gli obiettivi sia determinato appunto dalla vera motivazione in realtà io sono convinto che la motivazione sia fortemente alimentata dal raggiungimento dei risultati è per questo che molto spesso i business coach ma io stesso nella mia figura di consulente aziendale e di consulente degli imprenditori e in questo caso degli imprenditori stimolo il raggiungimento di piccoli risultati perché è proprio la progressione di piccoli risultati che comincia poi a dare motivazione alla persona e nel momento in cui la motivazione parte è chiaro che si viene a creare quel circolo virtuoso che porta ovviamente la persona a volere sempre di più ad essere sempre più confidente sulle proprie capacità e essendo più confidente sulle proprie capacità o cambierà magari il proprio atteggiamento verso determinate situazioni e cambiando atteggiamento verso determinate situazioni ecco che i risultati non tarderanno a mancare o meglio magari ne mancheranno alcune volte ma attenzione e si avrà una sorta di capacità anche di sopportare anche l'insuccesso che fa parte chiaramente del gioco della vita e come ti dicevo i risultati possono portare anche a dare un boost all'autostima creando quel circolo virtuoso che poi ma guarda un po riporta al nuovamente alla parola successo ed è proprio dalla parola successo che vorrei sviluppare alcuni ragionamenti con te scopri le strategie per migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario l'imprendi promotore perché perché di successo se ne continua sempre a parlare ogni volta che si incontra un imprenditore probabilmente il suo sogno più importante è avere successo avere successo avere successo personale avere prestigio fare in modo che la propria azienda sia sugli scudi venga riconosciuta ma se noi partissimo un attimo dall'etimologia della parola successo e ci accorgeremmo andando per esempio sul dizionario tre cani che la parola successo è contemporaneamente un sostantivo ovvero è il se vado a vedere la definizione il risultato di una serie di azioni andate a buon fine ma nel contempo anche il participio passato del verbo succedere ovvero è la determinazione di qualcosa che effettivamente è accaduto quindi già qui la parola è molto bella ed è molto interessante perché perché sembra quasi proiettarsi nel futuro il risultato di una serie di azioni andate a buon fine è vero che una persona potrebbe dire sì quel soggetto è una persona di successo perché effettivamente se andassimo ad analizzare le scelte che avrà compiuto consapevolmente inconsapevolmente queste scelte l'hanno portato ad ottenere dei risultati e conseguentemente la somma di questi risultati l'ha portato appunto al successo ma mi piace immaginare anche che il successo quando è sostantivo è da intendersi come un qualcosa che è posta costantemente nel futuro perché presuppone una visione di tipo strategico ovvero nel momento in cui ho definito una strategia sarà molto più semplice implementare una serie di azioni la cosiddetta tattica che mi porterà più o meno ragionevolmente ad un risultato che forse si avvicinerà forse magari sarà inferiore all'obiettivo o addirittura potrebbe essere addirittura superiore all'obiettivo che ci si è prefissati ma una cosa è certa per poter ottenere successo non si può prescindere dal compiere delle azioni che siano subordinate chiaramente ad un piano ad un piano strategico ed è qui che la parola successo poi va ad esplicitarsi anche in un qualcosa che non è direttamente riferibile al successo economico anche se mi rendo conto ed è umano e non c'è niente di male in questo che ogni volta che si pensa alla parola successo e ad alcune persone che hanno raggiunto il successo è evidente che è immediata il riferimento anche alla capacità di aver raggiunto determinati obiettivi in termini monetari o in termini economici in realtà la persona di successo per me è una persona che ha avuto la grande capacità di definire i propri obiettivi di poter disegnare il proprio futuro e da lì poi si è messa in marcia per appunto cercare di compiere quelle azioni utili a poter raggiungere successo ovviamente compiere le azioni ma cercando anche di fare in modo che queste ultime possano andare a buon fine perché è solo così che il risultato si potrà si potrà ottenere ed è evidente che ciascuna azione potrebbe avere la sua parte di conclusione proprio nel raggiungimento di un singolo obiettivo ed è la somma di differenti obiettivi che poi porterà chiaramente a raggiungere il successo questo è l'imprendi promotore con Enrico Florentino in realtà per il consulente finanziario parlare di obiettivi dovrebbe essere abbastanza naturale perché perché se il consulente finanziario interpreta in maniera corretta la sua missione che è quella di migliorare la condizione di vita del proprio cliente perché un consulente in generale ma un consulente finanziario in particolare dovrebbe fare questo grazie appunto al suggerire supportare il cliente nell'investire il proprio denaro è evidente che nel momento in cui si ragiona di pianificazione finanziaria o come mi piace chiamarla di investimento basato sugli obiettivi il cosiddetto goal based investing ebbene ragionare gli obiettivi appunto per il professionista dovrebbe essere abbastanza semplice in realtà per ciò che concerne gli obiettivi personali e professionali il consulente finanziario sembra utilizzare questo criterio abbastanza a corrente alternata consentimi di utilizzare questa metafora perché? perché alcune volte è fortemente motivato a raggiungerli è motivato magari perché in quel momento in quel preciso istante della propria vita forse raggiungere determinati obiettivi per lui è motivo di sopravvivenza talune volte e quindi del riuscire ad allontanare una situazione di difficoltà ti ricordo che tutti noi esseri umani principalmente ci muoviamo ragionando con un criterio del via da una situazione più che l'andare verso perché all'andare via da molto spesso vuol dire anche risolvere una situazione che in quel momento in quel preciso istante per noi è estremamente dolorosa altre volte invece sembra quasi non essere interessato forse perché ha raggiunto un certo equilibrio un certo livello di soddisfazione tale per cui c'è una sorta di appagamento ed è quindi qui che magari ci si trasforma più che in cacciatori come poteva essere al tempo della preistoria dove era necessario cacciare per potersi guadagnare il cibo e quindi la sopravvivenza ci si trasforma talune volte invece in coltivatori conseguentemente come nel caso specifico di chi coltiva un appezzamento di terra lo stimolo di andare a caccia ovviamente viene meno in realtà la natura del consulente finanziario dovrebbe essere costantemente quella di cacciare questa è una mia opinione perché? Perché comunque l'attività imprenditoriale presuppone una sorta di condanna a crescere principalmente per quale motivo? perché anche lo stesso portafoglio ad esempio tenderà a erodersi nel tempo perché i naturali deflussi di capitali legati per esempio al raggiungimento degli obiettivi quindi da parte di clienti o alle necessità contingenti anche che i clienti stessi hanno porta il portafoglio a ridursi si stima intorno all'8-10% all'anno e quindi è necessario porsi un obiettivo di andare oltre quella che è la naturale percentuale di erosione per appunto continuare a mantenere quantomeno costante il livello se non addirittura aumentare le risorse a disposizione grazie appunto alle masse che nel frattempo si acquisiscono in advisory la sensazione è che viene fatta troppo poca strategia da parte del consulente finanziario e soprattutto non vengono create dal consulente le condizioni perché gli obiettivi si conseguono e le condizioni passano, c'è poco da fare attraverso una attenta pianificazione un'attenta attività di tipo strategico allora quali sono le condizioni per raggiungere gli obiettivi e quindi che cosa scegliere di fare per poterli raggiungere? beh allora io qui ho individuato tre cose, tre suggerimenti, tre strategie da seguire e che se adottate non potranno non farti raggiungere importanti risultati la prima cosa da fare è appunto il fare l'efficacia nel fare e quindi il mettersi costantemente in discussione mettere costantemente in stress la propria area di comfort per poter mettere in stress la propria area di comfort e quindi aumentarne, andare oltre quelli che sono i limiti che ciascuno di noi si è dato è evidente che dobbiamo fare fare come? innanzitutto sviluppando nuove competenze sviluppare nuove competenze specialmente le competenze organizzative e relazionali sarà ciò che ti consentirà effettivamente di poter cominciare a dare proposte di valore differenti ai clienti generare del valore per i tuoi clienti e soprattutto far percepire ai clienti che il loro interlocutore, il loro consulente finanziario è un'altra storia rispetto a qualsiasi altro interlocutore differente appunto da chi come te cura gli investimenti e si prende cura di loro e soprattutto del loro futuro e dei loro obiettivi per superare i limiti della propria area di comfort e fare cose che fino a quel momento non si sono mai fatte un esempio tipico è dato da rimettersi a studiare dal imparare per esempio competenze quali il public speaking dal cominciare ad esempio a scrivere a scrivere in un blog il tuo blog perché ti servirà per aumentare la tua autorevolezza insomma cominciare a condurre una vita che sia sensibilmente differente rispetto a quella che hai condotto fino adesso il secondo suggerimento la seconda cosa da seguire è la costanza ovvero fare le cose con costanza le abitudini che ti hanno portato a raggiungere determinati risultati e possono essere anche risultati importanti e sia ben chiaro in realtà sono anche le stesse abitudini che potranno limitarti nel raggiungere nuovi traguardi e qui c'è un bellissimo libro di uno dei coach più quotati negli Stati Uniti il suo nome è Marshall Goldsmith è un libro che ti suggerisco di leggere ed è intitolato ciò che ti ha portato qui non ti farà andare avanti i contenuti del libero sono straordinari perché Goldsmith racconta proprio come in ambito sportivo ma più in generale in ambito professionale le performance ad un certo punto sono figlie chiaramente delle abitudini che si sono acquisite ma nel contempo queste abitudini sono state efficaci nel far arrivare lo sportivo nel far arrivare il professionista nel far arrivare te fino al punto in cui sei arrivato attenzione perché c'è il rischio che le stesse abitudini saranno ciò che ti frenerà per continuare la tua crescita infine il terzo suggerimento è acquisire una mentalità che è quella del maratoneta diciamo che è una mentalità che parafrasando un po' alcuni strumenti che tu utilizzi nel tuo quotidiano nel relazionarti con i tuoi clienti devi cominciare ad avere una mentalità più da fondo pensione che non da fondo azionario la cui strategia può essere per esempio a brevissimo termine per quale motivo? perché la mentalità del maratoneta ovvero la mentalità del cosiddetto finisher è la mentalità giusta per poter raggiungere risultati molto ma molto importanti è la stessa mentalità con cui l'interesse composto genera risultati straordinari nel tempo guarda ti racconto una storia personale io ho sempre avuto l'adesivo sport no grazie applicato sull'auto nel senso che sono sempre stato un grande pigro e fino a che ad un certo punto non decisi proprio di darmi una mossa e mi lanciai una sfida importante che era quella di fare una maratona ripeto non avevo mai messo le scarpette da jogging ai piedi ebbene la prima cosa che feci fu quella di scrivermi un obiettivo su un foglio molto grande e attaccarlo al frigo io farò la maratona nei prossimi entro sei mesi ero ad ottobre e decisi di partecipare alla maratona di treviso che si sarebbe tenuta poi nella primavera successiva avevo appena sei mesi di tempo a disposizione mi sono scaricato tutti i piani di allenamento mi sono scaricato tutte le diete possibili immaginabili a dire la verità ho cominciato a tergiversare perché alzarsi la mattina presto cominciare a correre avere il fiatone insomma i primi giorni sono stati durissimi però una delle cose che poi mi ha consentito di cominciare a allenarmi seriamente è stato proprio quello di cominciare pian pianino un minuto di corsa un minuto di cammino due minuti di corsa un minuto di cammino e così via fino a che cominciando a rompere il fiato ad allenare i muscoli che non erano assolutamente abituati a compiere quello sforzo dopo sei mesi la maratona è stata realizzata è stata conseguita 42,195 km sono stati fatti e posso dire di aver fatto una volta nella mia vita la maratona e averla appunto portata a termine quindi sono stato anch'io un finisher che cosa mi ha dato la maratona mi ha dato fondamentalmente una mentalità che è appunto quella di insistere del progresso quotidiano piccolo ma costante che però dopo alla fine ha portato ad un'accumulazione di energia che mi ha portato alla fine a conseguire questo obiettivo è la stessa cosa che mi accade per esempio ogni mattina registrando il mio commento sul canale telegram ti posso garantire che alcune mattine è molto dura svegliarsi e poter trovare degli argomenti da poter condividere con tutti gli ascoltatori del canale telegram ma è proprio grazie all'abitudine che se all'inizio ci mettevo molto tempo per registrare appena 10 minuti di trasmissione oggi grazie a questo allenamento costante mi ritrovo per esempio a registrare questa puntata del podcast con la massima semplicità e facilità ebbene avere una mentalità da maratoneta vuol dire anche riuscire a disciplinarsi ad avere quella grande capacità di non demoralizzarsi specialmente se i risultati apparentemente non arrivano perché perché quanto più farai e quanto più farai costantemente comincerai a percepire quella che io la chiamo la teoria dell'accumulazione sembra non accadere mai nulla per un certo periodo di tempo tanto è vero che ti arrivi anche addirittura ad interrogarti se valga o meno la pena di profondere uno sforzo quotidiano però improvvisamente boom ad un certo punto una volta che l'energia si è accumulata non può essere più contenuta in quel recipiente che era presentato da te ma anche dal mondo circostante ed ecco che i risultati arrivano cominciano ad arrivare prima un poco alla volta poi sempre più copiosi sempre di più e poi il successo come dicevamo all'inizio di questa puntata del podcast arriva allora che cosa quindi per concludere è importante fare allora innanzitutto mi auguro che tu possa aver percepito quanto sia importante fissarsi degli obiettivi ma sia altrettanto e forse più importante cominciare a cambiare delle abitudini allora per poter cambiare delle abitudini diventa importantissimo chiarirsi prima di tutto su che cosa si vuole raggiungere nella vita e soprattutto nella professione dopodiché è necessario cominciare ad acquisire o direi meglio sostituire delle vecchie abitudini con delle nuove bisogna anche allenarsi ad avere una mentalità che è anche quella del fallimento talune volte attenzione noi italiani concepiamo il fallimento come un qualcosa di negativo in realtà se ci trasferissimo negli Stati Uniti non sei un bravo imprenditore se non hai fallito almeno due o tre volte l'importante è la capacità di rialzarsi di rialzarsi velocemente e questo ti può far comprendere quanto il successo in fondo se noi andassimo ad analizzare anche le vite di persone di successo scopriremo che non è né più né meno che l'aver collezionato una serie di azioni l'aver messo in fila una serie di azioni che probabilmente sono state più efficaci ma soprattutto sono state determinate da delle sane abitudini e ogni giorno se tu ci rifletti ci troviamo a fare delle scelte che possono determinare differenti traiettorie per la nostra vita bene per oggi è tutto io mi auguro che la puntata di quest'oggi sia stato di tuo interesse che ti possa dare stimoli a concepire in maniera differente la tua giornata la tua settimana il tuo semestre il tuo anno i tuoi anni per poter raggiungere realmente dei risultati risultati che credo sia giusto tu ti possa meritare quest'oggi voglio parlarti del canale youtube dell'imprendi promotore vai su youtube e digita imprendi promotore lì avrai accesso al canale dove troverai un sacco di contenuti a partire dalle registrazioni degli audio di questo podcast che potrai magari ascoltarti comodamente quando sei in ufficio oppure le interviste che faccio durante le mie live dell'imprendi promo show o della peri promotore insomma tutto quello che è contenuto video proveniente dal ecosistema dell'imprendi promotore lo troverai appunto lì sul canale youtube per iscriverti sarà sufficiente andare sul pulsante a destra cliccarci sopra iscriviti e magari anche andare a cliccare sul simbolo del campanellino che trovi a fianco del pulsante perché quel simbolino ti permetterà appunto di avere delle notifiche ogni qual volta verrà caricato un contenuto sul canale se non l'hai ancora fatto ti chiedo nuovamente di prenderti qualche istante per sottoscrivere l'imprendi promotore podcast e quindi di iscriverti all'imprendi promotore podcast e di lasciare una recensione a 5 stelle io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ti ringrazio ancora e ciao alla prossima puntata hai ascoltato l'imprendi promotore strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino per informazioni domande e suggerimenti scrivi a infochiocciola imprendipromotore punto it grazie a tutti Grazie a tutti.